La stiatosi epatica non alcolica è causata da un accumulo di grasso nel fegato. Si tratta della malattia epatica più diffusa nel mondo e si stima che circa il 25% della popolazione generale si affetta da questa condizione. La stiatosi epatica non alcolica può progredire a stiatopatite non alcolica o NASH, caratterizzata da infiammazione che promuove il passaggio a forme più severi di danno epatico compromettendo la funzionalità dell'organo. La stiatosi epatica non alcolica ha una forte componente ereditaria e negli ultimi anni diverse varianti genetiche sono state associate al suo sviluppo e alla progressione verso forme più severe di malattia. In un nostro lavoro abbiamo recentemente dimostrato che alcune di queste varianti genetiche causano delle alterazioni nella massa, nella forma e nella funzione dei mitocondri, organelli che sono considerati la centrale energetica dell'epatocita, ovvero la principale cellula del fegato, e che giocano un ruolo chiave nella progressione ad assiatosi a forme più gravi di malattia. Ad oggi la diagnosi di stiatopatite non alcolica viene effettuata mediante biopsia epatica. Si tratta tuttavia di una tecnica invasiva che non può essere effettuata in caso di danno epatico severo e in età pediatrica. L'obiettivo del nostro studio è quello di identificare un biomercatore che, mediante un semplice esame del sangue, ci permetta di diagnosticare la NASH, ma soprattutto di valutare il rischio di progressione verso forme più severe di malattia. Grazie al finanziamento del 5x1000 per la ricerca e ai risultati che ne conseguiranno, potremmo effettuare un passo ulteriore nello sviluppo di una medicina personalizzata con notevoli benefici per una patologia per la quale ad oggi non vi è ancora una terapia definitiva.